ciao a tutti amici del capricorno benvenuti e bentornati io sono ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi metafisica spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale e mostrami capricorno tendenze energetiche generali per la prima parte di maggio capricorno abbiamo una torre caduta di certe certezze caduta di alcune sicurezze di alcune credenze mi verrebbe anche da dire di solito la torre parla di un momento di crollo del ego quindi tutto quello che poteva essere una struttura sulla quale si è basata la nostra vita o un settore della nostra vita potrebbe insomma accadere andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi vi ricordo come sempre che le letture sono collettive quindi è facile che non risuoni tutto se non risuona se nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio vi consiglio di ascoltare l'ascendente segno lunare oppure venere per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video è sempre in descrizione trovate anche il link per le previsioni del 2024 e per i corsi gratuiti presenti sul canale queste sono letture generiche quindi possono riguardare la famiglia il lavoro piuttosto che le relazioni di coppia io vi dirò l'andamento energetico più importante e poi andrò facendovi come degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà per coppie e single le letture le pubblicherò più avanti penso prossima settimana bene andiamo a vedere di che cosa si tratta re di coppe 9 di spade 10 di bastoni fante di bastoni 9 di coppe re di spade e papa allora la prima parte la prima settimana diciamo di maggio parte con questo re di coppe e qui potrebbe rappresentare una persona vicino a voi o voi o come la sensazione che qui ci sia una sorta di apertura verso qualcun altro ma che ad un certo punto questa apertura verso qualcun altro verso una situazione a un certo punto questa apertura potesse diventare troppo onerosa da portare avanti vi dico per qualcuno questo re di coppe come la sensazione che rappresenti o un partner o un padre andiamo a vedere carta per carta matto e giustizia potrebbe esserci qualche questione legata ai figli o a qualche genitore o a qualche progetto considerato il matto che o verrà regolarizzato nella prima settimana di maggio può anche fare riferimento a dei contratti la carta della giustizia ragazzi a qualche cosa di burocratico come se partisse qualcosa diciamo più regolare più regole più in equilibrio più contrattualizza più ufficiale o come questa sensazione devo vedere nove di spade imperatrice e due di bastoni c'è qualche tipo di preoccupazione inerente inerente o la parte concreta materiale della situazione o sul come progredire come questa sensazione perché qui si vedo una forte propulsione in avanti ok abbiamo fatto questo contratto c'è stato questo accordo come se ci fosse stato un nuovo inizio o se non c'è già stato sta per arrivare siete lì per cominciare questo nuovo inizio dove appunto si dà tanto però un certo punto è un po troppo quello che si dà noi tra dieci bastoni 5 di coppe e re di bastoni sento un po come se ci si aspettasse l'aiuto di qualcuno dall'esterno andiamo a vedere il fante di bastoni come se qualcuno dall'esterno dovesse dirvi sì ok puoi farlo sì ok è giusto che tu smetti di fare questa cosa qua allora abbiamo una bella ruota della fortuna è un bel 10 di coppe per questo fante di bastoni è come se fosse una questione a livello familiare livello di gruppo che da un lato si le cose vengono regolarizzate dall'altro però c'è da prendere in mano certe situazioni e forse qualcuno avrebbe voglia di essere più appoggiato più sostenuto anche magari proprio dal gruppo vi dico non termina male l'altura devo vedere questo 9 di coppe perché comunque il nome di coppe una carta di forte a pagamento abbiamo un 6 di spade e il diavolo c'è da allontanarsi da qualche tossicità o perlomeno questo un po l'andamento della seconda settimana di maggio dove qualcuno si lascerà un pochettino indietro tutti questi mal di testa che qua si vedono con il 9 di spade tenete presente che questa carta è una di quelle carte che fa riferimento a qualcuno che si preoccupa per un problema che in realtà non c'è è come se ci fosse una sorta di preoccupazione del tipo ma e se mi succede di nuovo quella cosa lì e se dovesse di nuovo andare così e se e se e se però in realtà la dinamica in questo momento è diversa rispetto a quello che avevate nel passato che qui c'è da destrutturare con questa torre le credenze limitanti che vi stanno vincolando tutto quello che sono le idee che vi hanno inculcato fin da bambini perché con il con il diavolo c'è un forte condizionamento e probabilmente c'è anche un forte ego sapete io voglio oppure leggo del e ma mai è successo questo quando per fare il lavoro di distacco dal leggo vi consiglio di osservare quando gli altri vi parlano quanto effettivamente state zitti ad ascoltare e quanto sentite il bisogno di interagire dire la vostra opinione in merito a quella cosa che vi sta raccontando la persona ogni volta che voi volete dire la vostra opinione personale su a me è successo questo io la farei così è quello e ego fondamentalmente è un buon esercizio per fare il distacco dal leggo andiamo a vedere il re di spade sacerdotessa e re di pentacoli guardate andiamo a vedere anche il papa ma io qui ho come l'idea che arriverà un nuovo ordine mentale può anche essere un nuovo tipo di aiuto considera torre di pentacoli una guida una persona anche perché poi abbiamo il papa che fa riferimento appunto di solito alla guida spirituale ma comunque dieci di pentacoli o una bella carta di contratti esattamente come il papa o anche un altro bella mago quindi di nuovo una carta di inizi guardate due carte di inizi e due carte di contratti quindi è come se ci fosse una sorta di resta in del vostro modo di pensare se state aspettando uno sblocco burocratico un contratto dei soldi in arrivo un aiuto arriva verso la metà di maggio secondo me c'è come questa possibilità di iniziare ma tenete presente che siete voi che vi condizionate il nome di coppe diciamo uno dei lati d'ombra del nome di coppe è la pigrizia quindi fate attenzione che normalmente quando c'è di mezzo l'ego si ha questa sorta di paura pigrizia si tende a posticipare perché perché l'ego non vuole cambiare perché per cambiare bisogna sforzarsi bisogna far fatica però è quello che serve per uscire dalla tossicità del diavolo c'è da vedere le cose da un punto di vista un po' più ampio ed è quello che viene a dirvi questo re di spade di trovare una sorta di ordine mentale di fare dei come dei progetti di fare una strategia e mi viene anche da dire di appoggiarvi a qualcun altro guardate con la sacerdotessa è come se riuscisse a vedere le cose in modo più ampio e infatti poi da lì c'è un nuovo inizio c'è questo contratto il 10 di denari potrebbe anche parlare di eredità soldi che arrivano il papa parla anche di matrimoni sono belle carte ragazzi per terminare la lettura anche se tutto questo peso fosse perdere a livello lavorativo e vi preoccupa l'espansione dell'azienda state tranquilli che cambiando il modo di pensare staccandovi dal ego questa ruota della fortuna riesce insomma ad arrivare poi anche ci sono due carte di contratti e questo mago che è il riferimento alla legge di attrazione alla legge di manifestazione quindi è un po come dire avete tutti gli strumenti le risorse mi viene anche da dire vedendo questo dieci di pentacoli le conoscenze e anche un po la protezione celeste considerato che avete il papa per iniziare questo nuovo percorso quindi accogliete questa torre come se fosse un momento una possibilità di cambio che vi dà l'universo vi dico quando c'è la torre i momenti di passaggio sono sempre un po pesantucci però quello che poi ne viene dopo io ci metterai subito il giudizio dopo c'è tipo il risveglio ho capito mi sento diverso andiamo a vedere osho che cosa vi consiglia abbiamo in viaggio e schizofrenia ho come l'idea che vi dicano di andare un po ruota libera sapete cioè questo diavolo va condizionato tanto tutte queste credenze limitanti quello che avete imparato durante il passato vi quasi ha reso statici sì è vero che il 9 di coppia una carta di forte pagamento emotivo è una carta di sogno compiuto ma io come la sensazione che non so è il vostro sogno o il sogno dei vostri genitori o il sogno di qualche amico il sogno di qualcun altro perché qua effettivamente con la carta schizofrenia è un po come se i piatti della bilancia fossero o meglio detto le lame della forbice fossero proprio divaricate la schizofrenia sono due idee completamente opposte la mente che va da un'idea all'altra è giusto di qua o giusto dirà è giusto di qua o giusto dirà e avete la sacerdotessa che vi ricorda che non è importante valutare se una situazione giusta o sbagliata perché quello può essere soggettivo in certi casi ma il punto è semplicemente capire che una certa situazione c'è e iniziare un viaggio di tipo diverso e qui lo vediamo sono belle carte ragazzi c'è sono belle carte nel senso che è un momento di trasformazione importante è un momento che vi può liberare dalla tossicità del diavolo vi può liberare dalla rabbia io molte volte diavolo lo sento come se fosse rabbia repressa in questo caso sento molto che leggo e la mentalità che avete acquisito crescendo e come se ci fossero certe rigidità che qua devono essere tolte che sono poi un po quelle che vi da vi portano tutti questi nuovi di spade o il sentire troppe responsabilità addosso troppi pesi cioè io penso che questo progetto questo nuovo inizio per qualcuno può anche parlare di paternità va bene andiamo a vedere comunque positivo cioè nel senso è un momento positivo di passaggio di nuovo inizio ma positivo perché andate verso il papa andate verso la comprensione da un punto di vista più ampio diciamo così andiamo a vedere che olio essenziale vi può aiutare questo mese abbiamo penso che sia la bete siberiano che diciamo alleggerisce e rivitalizza e si può applicare a livello cutaneo piuttosto che nel diffusore di senso ok quello che potete anche fare è per esempio metterlo su un tovagliolino piuttosto che un fazzolettino ne mettete qualche goccia poi la potete infilare questo questo fazzolettino dentro la federa del cuscino per esempio bene amici del capricorno questo è quello che ho per voi spero che la lettura possa esservi stata di aiuto in qualche modo fatemelo comunque sapere nei commenti se volete sostenere il canale potete mettere like iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basta abbonarvi al canale bene io vi ringrazio di essere stati qui con me vi mando un abbraccio ci vediamo nei prossimi video ciao ciao